Ancora una volta! Ciao ragazzi e ben ritornati nei miei video di Capred! L'ultima volta avevamo finito il gioco, infatti non so neanche perché sto facendo un altro video qui però ho una novità oggi, giocheremo in due! Ciao! Calmati! Sono ritornata! Stai insisto! Allora questa è mia cugina Claudia, ha già fatto qualche video con me e sarebbe Madman, il fratello di Capred Sì in questo gioco si può anche giocare in due, l'ho detto qualche volta Ok siamo pronti, ah intanto tu hai dieci monete, andiamo allo shop che ti compri Sì perché hai tutti i soldi miei che io ho guadagnato in tutta la mia carriera da youtuber Ok calmati adesso però, allora puoi comprare solo tu, tu sei delle pozioni di destra Allora io ti consiglio ovviamente lo... Perché non ce l'hai tu? Cosa? Dove il... Ragazzi l'hanno mentita mia cugina Cosa non... No scusami usciamo un secondo esci dal negozio Premio Usciamo un secondo dal negozio aspetta premiamo aspetta aspetta No ragazzi qua c'è un problema di fondo perché lei non può comprare la smoke bomb? Cos'è? La cosa è quella la sì perché l'ho spiegato un poco di roba Allora aspetta Ma no già ce l'ha Cresci Perché già tu hai la smoke bomb? Aspetta Anche un altro attacco No aspetta sono stupito io Ah perché? Ok ragazzi mi ricordo è perché Io avevo provato in questo gioco Cioè io avevo provato a fare un video con un mio compagno Che però non è mai stato postato quel video Avevamo comprato della roba Quindi lei già ha delle cose comprate Tipo Sì dovresti aver comprato Aspetta vediamo cosa c'hai comprato Hai l'attacco che mira in automatico Bene questo è perfetto Io provo a mirare Hai ovviamente tutte le super ma quelle non sono da comprare Quelle sblocchi facendo dei livelli speciali E hai la smoke bomb e il cuore Quante cose abbiamo comprato col mio compagno la scorsa volta Che voi no Il cuore per me va bene perché Che è Fabrizio Ho fatto delle cose A giocare e a morire Sì 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 muori sempre Però ti salverò io Perché quando siamo in due Uno può resuscitare l'altro Io non compriamo qualcosa Allo shop Dato che tu sei piena di soldi Dato che sei mai fatta l'incona Compriamo qualcosa Allora Questo porco Allora Ti consiglio di comprare Quello suo aspetta Questo Lo sai costa 4 Costa tantissimo Però è buono Questo lo puoi stare sottendo da vicino Ma fa un sacco di soldi Cos'è questo costo? Questo non te lo consiglio per niente Perché è fortissimo Però è un attacco caricato Quindi No Tranquillo Cosa compro? Se vuoi comprare Puoi comprare anche Magari attacco questo qua L'hober Intanto ho guardato il posto all'orologio Questo? Questo Cosa fa? Non so Questo è un attacco che cade verso il basso Per ora non comprai niente Basta Una sola già ce l'ho E mi avanza quella Ok allora Iniziamo a fare Botanic Panic Allora Cosa? È il primo livello Botanic Panic Allora Andiamo qua Seleziona come prima arma Come shot up La prima cosa Seleziona Il No aspetta No 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 Questo Questo Ok quello che mira un automatico È come secondo Ecco Come secondo già c'è questo Questo lo devi stare da vicino Se no non fai danno Ok Non da troppo vicino però Neanche Ok abbiamo tutto il necessario Andiamo in normale Il normale Botanic Panic Con mia cugina Moriremo tante volte Già io non so fare Quello stesso Allora con l'attacco Con il primo attacco Allora con questo Cambi attacco ok Con questo qua Tu però Spari Mi lottare Vedi Io ricordo che quando abbiamo Rapportato questo Sì perché io faccio I primi boss Ah non vado niente Ma cosa Muori Muori Fai schifo Ma io ho preso danno Anch'io Mi stavo volendo Ma che ragazzi Avete capito In cosa Avete capito In cosa Consiste Io che prendo In giro La mia cugina Ecco Consiste in questo Quindi se non vi piace Questo Genere di video Stai Stai facendo morire Già anche a me Non ti credo E basta morire Se mi piace Che Fabrizio Se mi piace Che Fabrizio Si sacrifica per me Rimanete in questo video Cosa faccio io Perché sparavo All'impianto Ok è morto il primo boss Che bolla Attenta Ora lo Levati dal centro Ok Questo attaccava con l'altro attacco Cambia attacco così Brava Anche se sono stato io A cambiarti Attacco Schiva le lacrime Che cadono dal cielo Schiva le Sono morto Io perché Uccidilo Uccidilo Vendicami Sparalo Sparalo Sparo Attenta Attenta le lacrime Guarda in alto a te Guarda sopra di te Schiva Ragazzi Il primo tentativo È andato benissimo In cosa Consiste Il video Ok Ok Io direi Non ti posso cre... No dai Eravamo comitinesi Che brutta faccia Si lo so È bruttissimo Però io direi Che il primo boss L'abbiamo superato Sì Dai Ok Facciamo un minigioco Non esistono i minigiocchi E queste cose Questa non giocare A cartaformice a sassi Se vuoi Zitta ora Sparalo 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 Ma dai Io non la sai fare Questa è la prima Tu non l'hai provata Tu non l'hai provata La prima Questa è un'altra Direttina Io pensavo che era Quella della Ho preso danno io Stai tranquilla Attenda Andiamo avanti Ricominciamo Possiamo ricominciare Facciamo 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 vinta Che non siamo Successo niente Ancora Ok Ho preso morto Quasi Quasi Attendo Attendo Perché sto sparando Solo io Allora Non incontreremo monete Perché le ho prese Già tutte Ma non sai Attendo 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 Si rovi I fiori Muori Muori Aio E questo danno con cosa Come spiegare Con Con i petalini No capito Ho capito Credo fossero i semi Non è E questo è E attendo E attendo Schivalo Così E ma chi è Super Mario Dove lo vede Super Mario Questo è l'inferno Non è Super Mario brava, ora schivamo, con un triangolo ti ho resuscitato dal cielo tu scendi da l'SLA ti ho resuscitato di nuovo sono impassibile stai morendo, c'è un pista ah, resuscitami doppio salto su di me bellissimo, sei andata tu dal nemico complimenti, un applauso ragazzi io ci posso credere risponde il coso blu, corri come rispona io sono pronta a premere il tasto per rubarti la vita non so neanche se nelle run and gun si può fare però, ok ragazzi, un buon inizio per questo video benissimo ok ragazzi continuiamo proviamo a fare adesso no proviamo a fare Hildaberg se si chiamava così Hildaberg ah sì no, meglio ancora non Hildaberg ma il fiore che lei odia no 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 Hildaberg e poi guarda che arriveremo al diavolo io ti avviso guardando malissimo ragazzi voi non lo potete vedere ma mi ha guardato malissimo è stata zittissima eh brava dovresti sapere come funziona più o meno ora accetta di sotto più o meno poi non lo hai mai capito aspetta attenta ok ora fa quelle cose attenta 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 schiva questi segni e ammazza anche le cose ricordo che puoi da te io stavo guardando a te io mi do il mondo perchè attenta sono morto cioè no tu sei morto sono morto no io ti stavo rubando la vita non puoi rubarmi non vuoi capire che cosa ho fatto io ma il Fabrizio oh oh sono ferma si faccio insomma no dai lo abbiamo battuto lo abbiamo battuto perchè per me questo è battere perchè sono mamma esatto per lei battere possiamo provarlo in facile ma anche no non perderò allora andiamo aspetta aspetta tu stavo per dirmi raffogato ma cosa ok continuiamo andiamo nell'isola tua no il pirata no il pirata no il pirata vuoi morirci allora ma nella vita reale vuoi morire allora allora il diavolo mi prende aspetta quello alla fine lo facciamo nel video ok se no vuoi morire da pelle allora ma poi li ho provati tutti proviamo non è vero che li hai provati tutti ma che stai ricerchi ah perchè c'è altro parte certo che ci sono mille parti ti posso far fare l'uccello volante che non mi ricordo il nome questo cosa si questo è molto cattivo ma perchè lo facciamo ma perchè ci stiamo giocando allora ah 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 ma ragazzi ho iniziato a prendere il palgato perchè tipo alcune volte ho iniziato a vibrare il pombo perchè lo devi sparare ricordi quale funziona ancora attenta all'uovo le uova ho preso danno a tiro se guarda ho pello qua non prendi danno attenta hai proiettili bravo non hai fatto neanche a posto devi passarci a posto smetti a morire meglio quando voglio neanche mi accorgio mi accorgio io non mi ero accorgio mi ero accorgiuto che ci sei straniera sono morto vai su vai su vai su salva ma ero io no ero io non capisci se sei morto o no non ci posso credere ma neanche la metà ti consiglio di prendere il controller perchè ho iniziato non so quanto durerà questo video non so neanche che durerà sicuramente claudia non dura in pieno sicuramente claudia non è durata claudia stai qua claudia stai qui indietro possibile stai qui indietro possibile perchè non prendi danno se stai qui indietro possibile non è durata adesso va non è durata non è durata non è durata ma è durata ma è durata non è durata non è durata ma non è durata ma non sono morta ma non è morta io sono morto bene ma scoppia già che? che cosa hai detto? mi sento più da parte dell'uccello ma che stai dicendo? bene vabbè ultimo tentativo contro la guerra mamma mia che difficoltà sono morto perfetto abbiamo battuto anche a lui incredibile oggi siamo mortissimi ma perché c'è ragazzi io ce l'ho battuto io l'hai battuto anche? sì 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 io sono morto alla fine ma tu l'hai battuto istantaneamente con un polpo ma infatti gli hai dato un polpo con tutta la potenza e poi andiamo all'altra anzi facciamo un'ultima cosa un ultimo boss dai dai sì dai il genio della lampada no no il genio dai l'odio va schifo l'odi perché muori tutti i boss tu odi tutti non è vero che dici che vinco sempre nei boss e cosa si è però per quando è 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 manco l'abbiamo finito? No dai Andiamo alla zona 3 Guarda che ti caccio Ancora là per cacciarti Scherzo tipo io bene Ancora sono Ancora sono qua Qua c'è il bel tasto per rimuovervi Ma non lo farò perché sennò il video finisce No non parliamo con questo Sì ciò che stanno cantando Bravi Mi piace sempre prendere il video Quante volte siamo morti? No vabbè non mi interessa Dove stiamo andando? Ti ho confusa un po' più vero? No guarda Allora Cosa? Ma perché dici allora se lo parli? Perché mi piace riempire le cose Perché se non parli tu qualcuno dovrà parlare Hai ragione Allora volevi fare tirata Andiamo a fare il pirata No 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 scassavo No dato che lo volevi fare Facciamolo dato che lo volevi fare così tanto Però in serio Dai facile dai Solo perché se mai muori Anche perché muoio io Perché il pirata è difficile Perché c'entano perché sono mi managing Aiuto mi ha sputato che facchino è stata Claudia comunque infatti ah lo ammetti pure cioè proprio non se ne vergogna allora ora decido una cosa io senza che tu mi devi dire se facile o difficile ok tu devi stare solo zitto va bene allora zitto però parla non è un boss lei però puoi parlarle no non parlarle perdiamo solo tempo ciao ti voglio tanto bene si brava no vieni vieni qua continua le cose e vabbè qua ci sono altri boss io non ti dico niente però riempise io devo stare zitto perché tu mi dici di stare zitto almeno parla tu vuoi parlare ma non mi devi dire quel boss è il baggio difficile non ti dico niente il controllo ce l'ho anch'io no ce l'ho anch'io onestamente questo è un boss eh se proprio vuoi no 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 non ti fidi al teatro no cosa vuoi vuoi questo grazie eh se no continuano anche di là ce ne ho un altro no se tu mi dici non ti fidi del teatro io non fido perché devo eh vuoi no 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 così vai all'isola 4 no ferma possiamo fare a lui lui è un altro boss se te ok ok facile ovviamente ok ti ricordo che è difficile non è difficilissimo ti può fare se sei ma non c'era un'altra fase dopo di ora perchè c'era? perchè mi hai fatto uscire? vabbè ormai è il diavolo siiii così non piangi più o piangi di più si infatti hai guardato il mio video in cui sconfiggevo il diavolo? no non ancora sono fortissimo si mi hai detto l'anteprima mi hai detto l'anteprima l'anteprima no l'ho capito però vabbè qua ci doveva essere una moneta nascosta qua no quello no perchè non troppo? no quello il king dice questo il diavolo ma perchè era pagata la scritta? è messo normale vero? perchè potevi scegliere solo tra normale e esperta in questo caso oh dopo ti faccio fare la modalità esperta gli abbiamo detto di no perchè lui ci ha imbrogliato noi gli abbiamo detto no e quindi ora si è arrabbiato tantissimo come puoi vedere quindi battiamo il diavolo o lui batterà noi quindi noi abbiamo detto no noi non ti diamo le nostre anime e lui ci ha detto no ma ha detto qualcosa per il tuo male il diavolo me le prenderò da sole abbassati mi hai proprio ascoltato attenta ai diavoletti che spuntano dai lati attenta a lui ti devi muovere in questa fase muoviti attenta il diavoletto l'ho inciso dai a fortuna ti sta sorridendo ok attaccalo ora perchè non mira più in automatico? si te lo mira in automatico adesso te lo miro però ti devi abbassare attenta togliti dal centro togliti dal centro non ti posso salvare mi dispiace non potrai rubare una vita però se vuoi abbassati guarda il tuo trono va bene no non sei morta brava hai fatto quello che ti ho detto attenta brava abbassati fa un finita di niente mi sono stata un po' ritardata no la vittima attenta devi stimare le palle che rimbalzano in giro oh ma lo faccio non morire guarda la tua faccia perchè lui invece degli altri boss ci spaventa guarda tu com'eri tu eri tu eri per l'occhio ma tu eri spaventatissima guarda la tua faccia perchè lui invece degli altri boss ci spaventa guarda tu com'eri guarda tu com'eri guarda tu com'eri noppii belle sono accorto ora abbassa lì quando ti dico A ti abbassi K io mi devo half 良 attenta, siamo morti mi sa che per ora niente diavolo allora, hai fatto un reddito l'hai fatto posto, ammettilo hai ragione hai ragione ok, basta, basta perchè? ho una cosa da dire a te Claudia e secondo me la vuoi anche dire tu dimmi allora, ti dirò assolutamente iscrivetevi al canale subitissimo bravi, adesso andiamo a fare un esperto botanico tranquilli, la faccio tutta io tu puoi dormire anche al momento no, 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 smettila ma non si senti nel giro ma non scutare tutto però che schifo muoviti scema pensavo a fare scema 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 non fai ridere a nessuno le parole mettila di parlare con la gente a caso perché gli hai parlato? Perché gli hai parlato? Perché mi sono simpatico. No, l'hai fatto, non l'hai fatto, dillo. No, dobbiamo fare Botanic Panic, inesperto. L'hai detto tu. L'hai detto tu. Questo video sarà un po' boccato. Te l'avevo sconato in faccia signora, signora. Sono morto, signora. Era l'ultima fase, signora. 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 Perché esiste questo cosino nel controllo della pressione? Tanta voce, se no non si sente nel video. Perché esiste questo cosino nel controllo della pressione quattro? Perché è un altro tipo di tasto. E che serve? Serve per altri giochi, tipo devi fare così? 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 No, magari così no. Voi non state capendo, ma va bene. Così no quello centro. Salve di nuovo voi. Cosa avete da cantarci oggi? Bravi. No, no, stai tranquilla. Vieni. Che fai? Cerchi di farlo. Aspetta, posso premerlo io? Vieni. Certo, premilo. non mi fa passare. Non mi fa passare, vai indietro. E rientra. Ecco, ci possono risolvere le cose in modi più semplici. Io, io voglio farlo. Prendi. Aspetta, semplice. Ah, vero, esperto dovremmo fare. Me lo sono scordato. Così? Allora, l'esperto sarà un inferno. mi piace tanto, boss. No, però, ecco, hai capito, insomma, la velocità è aumentata. E' una brutta persona. E' un cugino brutto. Grazie. No, 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 ha preso tanto. Stai zitta. Zitta, ora lì. Fare due volte. Perché non mi denunziano. Attenta. Io sono un pro game. Oh, non stai morendo. Incredibile, sei mortato. Ma prima o poi moriranno. No, prima o poi non moriranno. Ok, è morto. Ok, ora sarà. E la cipolla? Ecco, la cipolla sarà nell'inferno. Cambio attacco. E lo ho cambiato io. Se no lo cambiamo in macchina Oh, hai capito? Non devo schivare in pace, devo schivare qua Come faccio? Sono morto, sono morto, salvami E niente Da Safari ormai Riproviamo Non sta ringraziando Quando muori Palla Ti è preso Cosa ti è preso Basta, non voglio giocare più No, ti piacerebbe, hai voluto fare il video Ok ragazzi Proviamo a fare una cosa che la farò morire No, allora, aspetta Proviamo a fare il King Dice Ti ammazzo se suoni Se la suoni ti ammazzo Stava suonando una diamo Soldi finti Smettila Scema Fabrizio ci paga Aiuto Smettila Allora, hai finito di fare la Fabrizio paga le cose con le cose Non è vero, cretina Cretina, che poi mi denunciano No No, vabbè, è facile Non ho mai giocato in facile a questo Ho giocato solo in normale Quindi, insomma Cosa ci sarà da fare? E' un topo Dovevi sparare Ah, ma io pensavo a fare tutto quello là Dei tre Dei tre Perché dei tre porcetti? E' di biancaneve Razzista contro biancaneve Perchè mi scherzo Ah, di fare questa cosa facile, guarda Così Cosa stai facendo? Pensavo che sulle molle Sì, sulle molle ci puoi andare Sì, sulle molle ci puoi andare Ma se tu non riesci a vincere Tanti fani Come fai Aspetta i pomodori Salta i pomodori Perchè esplodono i pomodori Fanno delle fiamme, vedi Vedi cosa fanno Non piantare in faccia Vieni, c'ho provato Motivo per la vita Ok Se non farò più video con Claudia Saprete perchè Non perché non può fare Perchè proprio non potrà più fare E non ridere perchè Non sto scherzando Allora Le molle si possono fare Però non Ma tu non li sai Ora, ma queste Guarda che ti fanno fare Ti fanno saltare Ma tu devi Guarda devi usare il dash Questo Niente Sei morta Eh, vabbè Vincerò per forza Dove si giocherà Stai zitta Siamo morti Sei morto No, sei morta tu di più Sei morciuto Ragazzi, è impazzita È andata No, se gioca troppo tempo a capo E lei finisce Tu, chi o London Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu E smettiti di cantare La canzona di Mario 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 Cordo Burg Maggi ok ragazzi continuiamo il video da soli se mi state chiedendo dov'è finita Claudia probabilmente non è finita più da nessuna parte è morta insomma facciamo il King Dice come avevo detto da 30 anni fa fa ecco va beh ragazzi faremo un ultimo boss con lei è il primo un tentativo solo in Sperz che non si è facile no anzi no il facile non c'è c'è il normale il facile non esiste mi dispiace guarda il King Dice va beh sentite mi sa che sono morta non sarai tu uccidermi non sarai tu uccidermi mi buttate le schiappe ok non mi ha avuto comunque era morto ma dai no ma io ma io me ne vado lo sai perché mi sono buttato Claudia perché per oggi direi che possiamo concludere qui il video se non siete iscritti iscrivetevi iscrivetevi è tutto sai zitta ciao ciao muoviti come a me ciao ciao ok ora ti uccido no non sei morta perché è il potere delle ti sei buggata tantissimo che succede attività paranormali va beh ti caccio ora no sei buggatissima sei buggatissima non ti posso cacciare va beh ragazzi avete capito insomma fate finta che lei non ci sia ecco la caccio non funziona insomma non esiste lei anche se è qua ragazzi non la be